Buongiorno ragazzi, oggi continuiamo con il percorso di storia e ci concentriamo su quella fase storica estremamente particolare che è la fine della rivoluzione francese e l'ascesa di un personaggio di grandissima portata internazionale che è Napoleone. Sappiamo che la rivoluzione francese è una rivoluzione che cambia totalmente non soltanto il corso della Francia ma buona parte della storia europea e avrà fortissimi impatti sulla storia, sulla società che seguirà. Avevamo visto come il periodo del terrore ad opera di Robespierre che terminerà poi con l'uccisione di Robespierre stesso e con la nomina del direttorio. Come direttorio, come organo politico del primo direttorio, siamo tra il 1795 e il 1797, abbiamo visto che comincia a comparire sulla scena un personaggio fondamentale che confluirà nel direttorio. Stiamo parlando di Napoleone Bonaparte, originario della Corsica, quindi un'isola francese di origini piccolo-nobiliari, quindi insomma non aveva una tradizione familiare così importante che comincia ad arrivare sulla scena politica in quanto membro del direttorio che era un organo politico composto da 5 personalità influenti che avrebbe dovuto gestire la transizione dopo la fine del terrore per la Francia. Gli anni del direttorio sono anni parecchio difficili per la Francia, in quanto la crisi finanziaria è comunque in corso e continua a essere in corso e ci sono numerose congiure interne, citiamo tra le più importanti la congiura degli euguali, capeggiata da Babèf, e soprattutto il fatto che la Francia fosse ancora impegnata nelle guerre con le potenze rivali. Chiaramente il problema politico è assolutamente fondamentale in quanto sicuramente il direttorio non può che essere una forma politica transitoria e per il fatto che chiaramente le potenze rivali si stanno coalizzando nelle coalizioni antifrancesi. Quindi le coalizioni antifrancesi poi ne avremo numerose perché cercheranno di arginare la potenza espansionistica della grande Francia che poi verrà guidata da Napoleone nell'espansionismo. Avete ovviamente sotto sott'occhio la mappa della Francia, della Francia, dell'Europa napoleonica con l'impero francese, gli stati alleati, satelliti, tra cui ovviamente l'Italia, parti d'Italia e poi ovviamente gli stati nemici, le principali battaglie che adesso andremo a vedere. Napoleone, Napoleone era sicuramente un entusiasta della rivoluzione, quindi aveva seguito gli avvenimenti della rivoluzione e aveva ovviamente sostenuto gli ideali rivoluzionari. La prima volta in cui Napoleone si fa notare è proprio nelle campagne d'Italia. Con le campagne d'Italia, stiamo parlando del 1796 e 1797, in teoria doveva essere un tipo di spedizione militare molto semplice, nonché quasi di serie B, ed è il motivo per il quale viene affidata a un giovanissimo generale che è appunto Napoleone. Le spedizioni in Italia devono servire ad assoggettare alcuni territori. La spedizione ovviamente passa dalle Alpi, ovviamente varcate le Alpi, l'esercito francese sotto la guida di Napoleone riesce ad imporsi in maniera abbastanza immediata nei confronti dell'esercito piemontese e comunque riesce ad ottenere dei successi. Questa cosa ovviamente influenzò sulla nomea che Napoleone ebbe, quindi si fece subito notare. Il Piemonte in questo caso dovette cedere alla Francia, Savoia e Nizza, che poi ritroveremo quando parleremo dell'unità d'Italia successivamente. Continuando verso est, quindi vedete la discesa napoleonica è questa, queste sono le zone di Nizza, della Savoia, vengono soggettate all'impero francese, e Napoleone proseguendo verso est incontra l'esercito austriaco, che all'epoca ovviamente era un paese nemico. Parliamo dell'impero d'Austria, quindi l'impero austro-ungarico ovviamente. Lo scontro con l'esercito austro-ungarico lo tiene impegnato per circa due anni, quindi stiamo parlando sempre del 1796 e del 1797. Riuscì poi successivamente a sconfiggerlo, ma nel frattempo Napoleone continuò a scendere nella penisola italiana e assoggettò anche il Gran Ducato di Toscana, vedete quindi questo blu, e arrivò anche a Roma, allo Stato Pontificio. Quindi immaginate il tipo di espansionismo di queste campagne. Ritornando verso nord, l'esercito napoleonico cerca di puntare direttamente a Vienna, cerca di sfruttare il vantaggio militare nei confronti dell'esercito austriaco e punta verso Vienna, quindi tendenzialmente questa è la traiettoria che fa l'esercito napoleonico. Puntando verso Vienna, poco prima di entrare direttamente a Vienna e quindi di conquistare la capitale dello Stato nemico, Napoleone cede alle pressioni politiche del governo viennese e accetta di firmare il Trattato di Campoformio. Il Trattato di Campoformio è uno degli spartiacque dell'epopea napoleonica, in quanto 1797 ovviamente, in quanto ne parlerà poi anche Foscolo, quindi lo ritroveremo in letteratura, segnerà il passaggio della Repubblica di Venezia all'impero austro-ungarico, mentre la Lombardia sarebbe rimasta sotto il controllo napoleonico. Questo ovviamente ha creato un enorme malcontento nei confronti di chi aveva simpatie rivoluzionarie in Napoleone da parte dei rivoluzionari, degli illuministi, si chiamavano così, della Repubblica di Venezia, tra cui Foscolo. A questo punto ovviamente, pacificando il fronte con l'impero austro-ungarico, la principale nemica della Francia e quindi di Napoleone arrestava l'Inghilterra. Vedete qui, stati in guerra contro la Francia. Cosa fa in Italia? Cisalpina. Quando acquisisce la Lombardia, quindi nel 1797, con il Trattato di Campoformio, crea alcune repubbliche sorelle, le chiamo in questo mondo, che sono delle repubbliche chiamavano le gemellate, per non dire alleate della Francia. Crea nell'Italia settentrionale, in questa zona qui, la Repubblica Cisalpina, che era intesa come uno stato satellite della Francia, ed è un'unione delle preesistenti repubbliche cispadana e transpadana. Questa Repubblica Cisalpina aveva adotta ovviamente lo stesso statuto politico e ideologico della Francia, ovviamente, quindi stiamo parlando di stati totalmente alleati alla Francia napoleonica. L'anno successivo va a creare anche la Repubblica Romana, 1798, e nel 1799 anche la Repubblica Napoletana. Quindi l'Italia viene conquistata da Napoleone e vengono create queste repubbliche sorelle. Ovviamente sono repubbliche create sul modello francese, che non fanno altro che testimoniare un'altra volta ancora nella storia la mancanza di autonomia politica dell'Italia e la frammentazione anche sociale e politica del territorio italiano. Una volta pacificata l'Italia, Napoleone può dedicarsi ad altri fronti. Infatti dal 1798 al 1801 si dedicherà alla campagna d'Egitto, che non trovate qui sulla mappa, ma potete bene immaginare. Perché l'Egitto era formalmente un territorio che apparteneva all'impero ottomano, quindi chiaramente un impero islamico, non aveva ancora nulla a che vedere con l'Inghilterra, però pensava proprio di intercettare, di rinviare l'invasione dell'Inghilterra e colpire gli interessi soprattutto commerciali marittimi dell'Inghilterra in quelle zone. Ed è il motivo per il quale cominciò la campagna d'Egitto. Nel 1798 la Francia arrivò subito a ottenere una prima vittoria. Stiamo parlando della battaglia delle piramidi. Tutto faceva per esagire che le sorti della guerra sarebbero state esattamente le stesse delle campagne precedenti, quindi nel caso dell'Italia o dell'Austria, ma non fu così. Infatti la situazione cambiò radicalmente già pochi giorni dopo. Già il primo agosto la flotta francese, stiamo parlando soprattutto di battaglie via mare, venne annientata ad Aboukir, quindi la successiva battaglia è una sconfitta sonora per la Francia napoleonica. Cercò allora Napoleone di spostare il fronte verso terra, quindi spostandosi verso l'interno. neanche questa cosa ovviamente riuscì a rivolgere il... a cambiare totalmente le sorti della guerra. Nel frattempo cosa era successo? Era successo che spostandoci un attimo, ritornando nel fronte europeo, si era formata una seconda coalizione antifrancese. Abbiamo visto che le coalizioni saranno numerose. Qui abbiamo la seconda, che era ovviamente composta dall'Inghilterra, ma anche Austria, Russia e anche impero ottomano. Quindi tutti coloro che non vedevano di buon occhio l'espansionismo napoleonico francese, sotto gli ideali della spinta della rivoluzione francese, fecero e si coalizzarono in questa seconda coalizione. Nonostante questa seconda coalizione, l'espansionismo napoleonico andò avanti. Riuscì a tenere, sotto controllo soprattutto i territori italiani e si concentrò soprattutto sulla battaglia contro l'Inghilterra, ovviamente. La guerra riprese e nel frattempo riprese la guerra contro l'Austria. Napoleone ritornò a occupare Milano e si prepara a combattere gli austriaci. I due eserciti si schierarono e arrivarono allo scontro. Anche ovviamente l'Inghilterra decise di partecipare allo scontro. Nel 1802, quindi pochi anni dopo, in linea di dati i numerosi successi, Napoleone pensò bene di cambiare il proprio status politico e di farsi eleggere come console a vita. Console a vita, ovviamente, è una carica vitalizia e avrebbe avuto anche il potere di nominare il suo successore. Nel 1804 venne promulgato il nuovo codice civile ispirato agli ideali rivoluzionari. Quindi, ovviamente, ideali rivoluzionari del 789, cioè parliamo dell'ideologia che ha guidato la rivoluzione francese.